martedì mattina aprile oddio mi ricordo più se il 17 oggi la situazione della villa che poi mostreremo nelle fotografie è questa questa è la zona di bivacco dei peruviani ovvero sia delle persone che qua vengono e devastano qui lungo la via olimpica laggiù non ci andiamo ma c'è un tappeto di escrementi assorbenti e materiali di ogni tipo all'interno di queste ceppaie c'è di tutto dai sedili ai bicchieri di plastica le bottiglie alla cacca a qualsiasi cosa voi possiate immaginare ecco sta arrivando al servizio giardini che adesso